Salve amici del Centrometro Italiano. Clima invernale nei prossimi giorni, con freddo e nevicate attese fino in pianura special Nord Italia, con fiocchi a Torino, Alessandria, Parma, Bologna, Verona e Dudine. Non si esclude anche qualche nevicata sulle coste da Trieste ad Ancona, così come a Genova, anche se i fiocchi saranno misti a pioggia per la maggior parte della giornata. Neve al centro-sud e sulla Sardegna, dove su quest'ultima sono attese nevicate abbondanti fino ai 400-500 metri. Giovedì 24, residue nevicate sulla pianura emiliana, mai rapido esaurimento, mentre continuerà a nevicare sugli appennini a quote man mano sempre più basse. I fenomeni si andranno ad intensificare soprattutto al sud a partire dalla serata, con la neve che scenderà fino ai 500-700 metri. Urbino, L'Aquila, Campobasso e Potenza vedranno nevicate sparse, così come Enna, con la neve che scenderà a bassa quota anche in Sicilia. Venerdì il maltempo insisterà ancora sulle regioni meridionali, dove non si esclude che la neve possa raggiungere anche i 300-400 metri. La situazione è in continua evoluzione e dunque vi invitiamo a seguire il nostro sito o il nostro canale YouTube per tutti i prossimi aggiornamenti. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.